Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, apriamo con il giallo sulla scomparsa di Samuele Landi, l'imprenditore aretino che da anni si trova a Dubai. Le impronte digitali corrisponderebbero alle sue rispetto a uno dei due cadaveri che ha restituito il mare dopo la tempesta in cui era stato appunto coinvolto il natante di sua proprietà. Siamo in collegamento con l'avvocato Amedeo Di Sieni, avvocato di Samuele Landi, tutela anche la sua famiglia. Se ci sono novità dell'ultima ora, oggi è il 12 febbraio, sono dieci giorni che l'imprenditore aretino non dà notizie di sé, è corretto? È corretto, l'ultimissima informazione che non voglio chiamare notizia perché non ho conferma documentale, è che la polizia in attesa dei lunghi esiti del DNA che si sta comunque nel frattempo effettuando, ha fatto un rilievo dattiloscopico, cioè sulle impronte digitali e questo purtroppo ha dato esito positivo con un cadavere che è stato rinvenuto. Quindi la notizia non è, ripeto, confermata documentalmente ma è soltanto riferita a voce da uno dei familiari. Però è l'ultima informazione di cui dispongo. Sono ore di apprezzione per i familiari di Samuele Landi, l'imprenditore aretino, che risulta disperso dallo scorso 2 febbraio nelle acque dell'oceano indiano, quando un natante di sua proprietà con 5 persone a bordo è naufragato. L'imprenditore e il resto dell'equipaggio stavano lavorando al futuristico progetto di Iceland, una città flottante che avrebbe avuto un'organizzazione autonoma, decentralizzata, senza tasse e imposte. Un sogno per l'imprenditore. Sta costruendo in forma modulare, cioè aggiungendo sempre più moduli sia abitativi che tecnici, questa sorta di città galleggiante, cioè creare una sorta di mini stato al di là delle acque territoriali, privo di tasse e pieno di tecnologia. Questo era il suo progetto. Ecco, quanto è avanti questo progetto? Il progetto è molto avanzato, nel senso che richiede tempi lunghissimi perché è un progetto faraonico, però tutte le strutture tecnologiche sono state già approntate. Quello che manca sono i moduli abitativi, adesso erano stati posti i moduli abitativi base, diciamo quelle per gli addetti ai lavori che dovono preparare il resto e non ancora quello per coloro che sarebbero stati poi cittadini di questa città. Gli marinai sono stati salvati dopo 48 ore, poi il mare ha restituito un corpo e un altro, risulta disperso. Sul corpo dove sarebbero state riscontrate le impronte digitali di Landi si attende l'esame del DNA. L'avvocato di Segni stava lavorando al ricorso in Cassazione per la condanna in appello dello scorso ottobre a carico di Landi, per il caso Agile e Utelia. L'imprenditore voleva impugnare la sentenza e arrivare in Cassazione. Operando in qualità di avvocato, oltre che di già amico di Samuele Landi, mi attendo sicuramente degli esiti ufficiali e presentabili, perché dovrò anche informare le varie procure della Repubblica, i vari organi giudiziari che hanno ancora in carico procedimenti a suo carico, perché per esempio quelli che sono i reati ancora pendenti, quelli sui quali abbiamo sempre sperato ancora in una soluzione, si dovranno estinguere eventualmente per morte del reo. Per fare questo ho bisogno non di indiscrezioni, ma di notizie verificate. Ovviamente di carte, insomma, come si dice in questo caso, procedimenti per i quali voi avete sempre detto, o anche non più tardi di qualche anno fa, insomma, quando ricordiamo quella conferenza stampa in Piazza Guido Monaco, di comunque fare appello. Ecco, Samuele Landi si è sempre professato innocente. Non solo, ma anche contrattaccato, denunciando i magistrati, i commissari di Utelia e altri organi, persone e personaggi che gli ha sempre ritenuto colpevolmente responsabili di fatti che invece lui non aveva commesso. E l'avvocato di segni ribadisce, Samuele Landi non è mai scappato, così diceva ai nostri microfoni in una conferenza stampa in Piazza Guido Monaco, collegato a distanza. Ci sente latitante lei? Ci sente latitante? Altra domanda, interessante. No, no, non mi sento latitante assolutamente, mi sento semmai un esiliato. Lui non ha abbandonato la città perché le cose andavano male per Utelia. Lui era già all'estero per motivi di lavoro, prima in Svizzera e poi a Dubai, e aveva ratificato e ufficializzato questa sua residenza estera iscrivendosi all'aere già prima del 2009, quindi molto prima che le indagini approdassero a una conoscenza di qualcuno. Quindi lui non è fuggito, è rimasto all'estero per evitare il mandato di cattura, ma anche per dedicarsi a questo suo lavoro che aveva già cominciato all'epoca. Travolto da un'auto è sbalzato in un dirupo, è stato ferito così un ciclista 38enne, successo lungo la Tiberina Trebis tra Selci Lama e San Giustino Umbro, protagonista dell'episodio, appunto un 38enne che ieri mattina si trovava in sella alla propria mountain bike quando sarebbe stato travolto dall'auto, proprio mentre transitava sul ponte che si affaccia sul torrente Selci. Il ciclista è stato sbalzato dalla sella ed è finito nella scarpata di fianco al ponte. Il conducente del veicolo invece ha terminato la sua corsa contro il muro. Al momento il 38enne si trova ricoverato all'ospedale di Città di Castello. Le sue condizioni non sarebbero gravi. E adesso apriamo invece una lunga pagina dedicata al mondo dell'agricoltura. Partiamo dalla protesta degli agricoltori che va avanti a Farniole. Presidio rimasto sempre attivo. Oggi è arrivata anche la mucca ercolina. Il vostro presidio continuo ancora davvero molto partecipato? Sì, speriamo sia sempre così battuto come fino a ora è. Dopo Roma e Sanremo la mucca ercolina è arrivata anche al presidio degli agricoltori a Farniole, rimasto sempre attivo. Più volte il carosello di trattori in questi giorni ha bloccato il casello di Bettolle. Dieci persone, otto sono con noi. E lo abbiamo visto sia qui che andando a Roma. Tutti i giorni arrivavano cittadini con dolci, pranzo pronto per noi, cena. Hanno portato di tutto, pizze da bere e giù a Roma uguale. Quindi ecco, questa è una solidarietà che non ci aspettavamo. Dopo un primo confronto con il governo, riscatto agricolo e il movimento che ha organizzato la protesta e che rimane apolitico, è più convinto che mai a portare sui tavoli istituzionali le ragioni degli agricoltori. Vogliamo ricordare le ragioni delle vostre proteste e alcune anche precisarle. Perché, insomma, voi avete dei mezzi nuovi, belli, ma che non significa che, tra virgolette, insomma, vi si può fare i conti intanto. No, i mezzi, la maggior parte sono delle banche. Non sono nostri. Le ragioni le sappiamo tutti, i prezzi dei cereali. A noi più che altro sarebbe quello. Alzassero i prezzi dei cereali, penso all'80% dei problemi sarebbe risolto. Perché se mi alzano il prezzo del cereale e mi pagano come dovrebbe essere pagato per la qualità che abbiamo, io riesco a pagare anche il gasolio a 90 centesimi, riesco a pagare l'IRPEF sui terreni. La prima cosa che noi cercheremo di fare è non farci strumentalizzare dalla politica, assolutamente. La cosa ha avuto successo, quindi ci saranno sicuramente, ci sono state persone che cercheranno di cavalcare l'onda e tutt'oggi toccherà stare sempre attenti, ma per ora ci siamo e la politica la lasciamo fuori. La politica cerchiamo di farla noi dentro con il lavoro che sappiamo e che facciamo tutti i giorni da una vita e da generazioni. E non vogliamo buttare all'aria quello che ci hanno tramandato i nostri nonni e le nostre avi, la bandiera italiana, giustamente. Nel prossimo servizio tocchiamo invece l'importante argomento della chianina perché c'è un allarme forte che arriva dalla CIA, dagli allevatori in particolare che appunto hanno incontrato la presidente Serena Stefani nelle scorse ore, questo gigante bianco, questa vera e propria eccellenza del nostro territorio rischia grosso perché insomma la domanda sta veramente calando. Una volta era la regina incontrastata dalla provincia di Arezzo, simbolo della sua agricoltura, alimentazione ma anche paesaggio. Oggi invece la chianina rischia l'estensione così come decine di stalle rischiano di chiudere i battenti. È l'allarme che arriva dalla CIA di Arezzo dopo il faccia a faccia con gli agricoltori. In questo momento non è più sostenibile la spesa per la produzione in rapporto all'andamento del mercato che ha preso questa razza perché non riusciamo più a avere un guadagno netto che ci può aiutare comunque a mantenere l'azienda. Noi ogni giorno che passa loro mangiano e però non ci riportano alla fine dei salmi un reddito adeguato a quello che ci dobbiamo investire perché comunque la stalla va avanti e ha un costo di mantenimento. Il mercato continua a modificare i suoi usi, abitudini e gusti. Il consumo di carne è in continua discesa e si iniziano a vedere importanti riflessi. E quindi ecco come la carne e tanti altri prodotti insomma hanno bisogno secondo me di più tutela e soprattutto di un aiuto anche a essere piazzati nel mercato perché la concorrenza nazionale e non solo che viene da altri paesi è spietata perché come sappiamo in Italia abbiamo dei parametri e dei regolamenti che in altri paesi non vengono rispettati perché non devono essere rispettati giustamente e quindi quando ci dobbiamo poi scontrare con questi prodotti ovvio che vince chi riesce a fare il prezzo più conveniente. Le stalle così restano piene mentre si assiste ad un autentico crollo delle richieste. La prima difficoltà è che allevare la chianina rispetto a tutte le altre razze è molto molto più complicato. È come paragonare diciamo un cavallo da corsa di razza di puro sangue e un bardotto diciamo. Quindi la gestione stessa di questa razza, la chianina, ha le sue problematiche. Il problema è che negli ultimi due barra tre anni ha avuto una crisi di mercato enorme. Enorme vuol dire non solo che il prezzo si è adeguato alle altre razze e addirittura è diminuito il prezzo ma non ci riesce a venderle. Abbiamo le stalle piene e non ci riesce a vendere questa razza, questa eccellenza diciamo di chianina. Noi un appello che possiamo fare a tutti i consumatori quando vanno dal macellaio di fiducia che chiedono che la carne sia marchiata dentro al consorzio IGP della chianina. Però capisco anche la difficoltà che hanno gli operai dipendenti, gli operai che magari per comprare questa devono frugarsi in tasca e spendere una lira in più. Il messaggio che potrei dire è mangiamo meno carne che non fa troppo bene ma quando si mangia mangiamo una carne di qualità, di altissima qualità. Ed infine parlando sempre di agricoltura è il presidente di Confagricoltura Bartolini Baldelli che dice dobbiamo cambiare la PAC, lotta alla concorrenza sleale extra UE, esenzioni IRPEF, massima attenzione al fabbisogno di mano d'opera, tutti i temi che sono stati portati proprio da Confagricoltura nell'incontro con i parlamentari e le aziende agricole. Oggi abbiamo avuto ospiti la senatrice Petruccia e la onoreva Renesini, ci siamo confrontati insieme a una delegazione di aziende per parlare dei principali problemi dell'agricoltura del nostro territorio. È stato un incontro estremamente fruffoso in cui anche le aziende hanno contribuito in maniera importante a questo dibattito. Speriamo a questo punto che con le nostre proposte di governo e con le prossime elezioni si possa fare qualcosa per eseguire dignità alla nostra agricoltura, al nostro territorio, che è veramente importante. Oggi è una giornata importantissima, un incontro fatto con chi i problemi vive sul territorio. Ecco oggi siamo qui proprio per sentire questi problemi e per riportarli al governo nella forma più semplice di questo mondo. Abbiamo parlato della concorrenza asiale che mette in difficoltà questo comparto, abbiamo parlato della troppa burocrazia che oltre a creare difficoltà aumenta anche i costi, abbiamo parlato della concorrenza asiale di una PAC che ad oggi risulta poco corposa, troppo poco corposa e quindi insufficiente nel nostro tessuto agricolo. Abbiamo parlato anche del tema ungulati che nella retina è molto sentito e tanti danni crea ai nostri agricoltori, del tema lavoro, del decreto flussi, della semplificazione che è indispensabile, della mano d'opera che manca, della formazione dei nostri ragazzi. Intanto sui temi trattati c'è stato consegnato un documento che noi porteremo a livello nazionale in Parlamento e al governo proprio per andare a sostenere un settore che per il nostro paese è importante, per la nostra regione è importante e ancora di più sul nostro territorio a retina. È fondamentale che la politica stanzi immediatamente un sostegno alla reddito per gli agricoltori, altrimenti molte aziende agricole rischiano di chiudere e quindi PAC o attraverso un altro sistema un sostegno che possa andare a integrare il proprio reddito. Torniamo a parlare dell'antenna di via Sicilia ad Arezzo, Arezzo 2020 per cambiare a sinistra, si schiera dalla parte dei cittadini che stanno protestando appunto contro l'amministrazione comunale per l'installazione di una enorme antenna per la telefonia posizionata proprio in prossimità delle loro abitazioni. Si esprime su questo Francesco Romizzi, consigliere comunale di Arezzo 2020, che dice il Comune dovrebbe riconoscere le proprie responsabilità di questa situazione e individuare una soluzione. In Toscana nel 2023 sono state raccolte e recuperate quasi 12.000 tonnellate di pneumatici fuori uso e l'ottava regione in Italia per quanto riguarda appunto i copertoni giunti a fine vita e poi recuperati. Ben 304 chilometri di asfalting gomma riciclata sono quelli che potrebbero essere realizzati con il recupero di oltre 11.980 tonnellate di pneumatici fuori uso raccolti nel territorio della regione toscana nel 2003 da Ecopneus, una società senza scopro di lucro che opera in questo specifico ambito. 187.000 invece le tonnellate raccolte nell'ultimo anno a livello nazionale. La Toscana è l'ottava regione in Italia per quantità di pneumatici fuori uso generati e raccolti nel 2023, un dato strettamente legato al numero di abitanti e al numero di veicoli che circolano nella regione. In Toscana Ecopneus ha esaudito 4.253 richieste di prelievo arrivate da gommisti, stazioni di servizio e auto-officine. Per quanto riguarda poi la provincia di Arezzo sono state raccolte 927 tonnellate di copertoni giunti a fine vita. La gomma che si ottiene dal reciclo è un materiale ampiamente utilizzato in tutto il mondo per la realizzazione di superfici sportive, campi da calcio e per asfalti silenziosi, sicuri e duraturi. Un ruolo in primo piano infatti rappresentato dagli asfalti modificati con gomma riciclata che stanno emergendo come una delle soluzioni più efficaci per la rete viaria nazionale sia urbana che extraurbana. Questa tecnologia, già impiegata in circa 700 chilometri di strade italiane, combina sicurezza, sostenibilità ambientale e prestazioni meccaniche di alto livello. Sono oltre 20.000 i ticket sanitari che avrebbero dovuto essere pagati negli anni scorsi e che invece hanno goduto di un'indebita esenzione, questo secondo i controlli proprio della ASL Toscana Sud-Est per le province di Arezzo, Siena e Grosseto, ma adesso a seguito appunto di controlli massivi effettuati incrociando i dati degli archivi, dell'Agenzia delle Entrate e delle Aziende Sanitarie, IMSS e Ministero del Lavoro, stanno partendo gli avvisi bonari. A seguito della ricezione di questo avviso si deve corrispondere quanto dovuto entro 60 giorni per evitare poi la messa in mora. Un convegno per trattare il legame tra il lavoro e la giustizia sociale della Federazione Anziani e Pensionati delle ACLI. Vediamo. Un convegno per trattare il legame tra lavoro e giustizia sociale. Ad organizzarlo la Federazione Anziani e Pensionati delle ACLI che ha proposto un'occasione di confronto finalizzata ad evidenziare le attuali criticità in ambito lavorativo verso cui istituzioni ed associazioni saranno chiamate ad orientare le loro attenzioni. Il 2023 a noi ci dà praticamente un aumento dei posti di lavoro, ma io questi posti di lavoro se non sono a tempo indeterminato praticamente li considero che quasi non esiste. Il lavoro tra giustizia e disuguaglianze è il titolo della giornata per individuare misure concrete a favore di inclusione, potere d'acquisto e rilancio dei consumi. È vero che abbiamo buoni dati sull'occupazione, ma in realtà il mondo del lavoro negli ultimi 30 anni si è fortemente impoverito e le disuguaglianze sono cresciute tantissimo. Per cui bisogna affrontare i problemi da tanti punti di vista, politiche industriali, servizi pubblici, una nuova capacità dei servizi pubblici di essere a servizio del Paese. Oggi ci sono grossi deficit da questi punti di vista. La scuola che deve tornare a essere ed avere un ruolo innanzitutto educativo. Poi c'è un problema grosso che è quello della pace e della guerra che sempre più si affaccerà nel Mediterraneo, ma soprattutto se dovessimo dire oggi bisogna ritornare su questo tema del salario minimo. Tanti lavoratori oggi hanno subito le conseguenze dell'inflazione e ci sono, è stato presentato ieri il rapporto sulle povertà anche in Toscana, potenzialmente centinaia di migliaia di toscani vicini alla soglia della povertà. Questa è mancanza di libertà, di diritti, di capacità, cioè di svolgere le proprie traiettorie di vita e le proprie aspirazioni non solo dei più giovani ma di tutte le famiglie e quindi anche di chi si trova in condizioni, come per esempio i pensionati in condizioni obbligate. Ancora sei cuccioli abbandonati in uno scatolone è successo a Rigutino, sono stati salvati dall'empa di Arezzo e adesso ovviamente cercano una famiglia. Una signora che abitava lì vicino, quando ha sentito sì la mattina presto, più che altro i suoi cani abbaiavano, quindi è andata a controllare, c'era questo scatolone con questi cucciolini. Erano stati abbandonati in una scatola di cartone lungo la strada, sei cuccioli meticci di appena due mesi a salvarli i volontari dell'empa che gestisce il canile comunale di Arezzo. Tre maschi e tre femmine a Rigutino, per fortuna cuccioli svezzati, quindi autosufficienti, autonomi a mangiare, anzi super voraci, condizioni insomma erano strapieni di pulci, non facevano altro che grattarsi, pieni di vermi, li abbiamo tutti sistemati, hanno fatto il primo vaccino, il microchip, tre siamo riusciti a già farli adottare e sono rimasti questa femminuccia, la sorella e il fratellino. È sempre difficile dire che taglia possono diventare non conoscendo i genitori, però sì, sicuramente è una taglia media. Cani, gatti ma anche conigli, dopo Romeo e Giulietta salvati dai volontari dell'empa e già adottati adesso al canile in attesa di una famiglia che possa accoglierla, c'è Sofia. Sono arrivati anche dei conigli che fortunatamente abbiamo fatto adottare insieme, ma è arrivato un altro coniglio, una femmina bianca e nera, ma cerchiamo casa per lei, tra l'altro non è un coniglio nano, è un coniglio da carne, se così si può dire, che sicuramente è scappata, per fortuna, da qualche situazione. Siamo allo sport sconfitta a Casalinga per l'Arezzo Calcio Femminile, al comunale passa per 2 a 1 il Chievo Woman. L'Arezzo Calcio Femminile non riesce a vincere nel match contro le Chievo Woman, scontro valevole per la seconda giornata di ritorno di Serie B. Le ospiti si sono infatti imposte al comunale per 1 a 2. Le veronesi passano in vantaggio al 14esimo, grazie a un gol di Ketis, che colpisce di prima intenzione una palla in uscita dall'area di rigore Amaranto e poi infila la sfera all'angolino con un tiro potente e preciso. La replica delle Amaranto arriva al 27esimo, a segnare il Razzolini, brava a crederci sul retropassaggio della difesa del Chievo e a spedire la palla in rete. Rientro poi shock per l'Amaranto con il gol degli ospiti, un'indecisione clamorosa della difesa dell'Arezzo, ne approfitta Begal appena entrata e non sbaglia davanti a Nardi dopo appena un minuto. L'Amaranto accusano il colpo e il Chievo prova a chiudere la sfida, Poli in aria e viene ribattuta sul più bello al 56esimo. Mr. Mike nel finale inserisce forze fresche, ma il risultato non cambia più. Nonostante gli sforzi, Telerezzo, calcio femminile che sfiora il pari con Diaz, Miotto e i suoi sviluppi di un corner a tempo scaduto. Ed infine invece parliamo della SBA perché l'AMNBC Servizi vince davanti al pubblico amico del Palaestra contro la Computer Gross Empoli. Il Pala Sportestra si conferma indigesto per le prime della classifica. L'AMNBC Servizi vince davanti al pubblico amico anche contro la Computer Gross Empoli al termine di una gara che gli Amaranto hanno fortemente voluto vincere giocando con grande determinazione sin dei primi minuti di gioco. La SBA parte decisa con Semprini e Rossi a trovare in attacco i punti che scaldano subito il pubblico del Pala Sportestra. In difesa poi la squadra di coach evangelisti toglie riferimenti agli avversari chiudendo il primo quarto in vantaggio 22-13. Empoli riorganizza il proprio gioco con Capitanze Soldi che segna due triple consecutive che portano gli ospiti sul 27-26. Arezzo si riprende dal momento di sbandamento e torna a difendere con attenzione. Le squadre vanno a riposo sul 33-30 per gli Amaranto. Il momento chiave della gara è rientro dagli spogliatoi quando l'AMNBC Servizi alza ancora l'intensità difensiva poi Rossi guida i suoi al più 8. La SBA non rallenta sfruttando uno zocca sopra le righe, raggiunge 13 lunghezze di vantaggio, i ragazzi di coach evangelisti sono poi bravi a gestire e tenere alla terza sirena 52-39. L'ultimo quarto si apre con due triple di Djankovic ma è in difesa che l'AMNBC Servizi costruisce la sua vittoria non permettendo ai giocatori e avversari di prendere fiducia. Il vantaggio acquisito dagli Amaranto è irrecuperabile per l'Empoli che è costretto alla resa finale con il punteggio di 66-52. Adesso domenica l'ultima partita a Firenze contro l'Olimpia legnaia sconfitta a Castelfiorentino. L'AMNBC Servizi dovrà dimostrare di aver fatto il salto di qualità solo con una solida prestazione in trasferta dove il quintetto di coach evangelisti è riuscito a vincere solamente nella prima giornata di campionato contro Sestri. È una finale, chi fra noi e Firenze domenica vince arriva quintultimo e sarà automaticamente salvo e accederà ai play-off in. Chi perde accederà ai play-out quindi è la prima finale del campionato diciamo. Io volevo veramente arrivarci e dovevamo passare da questa vittoria quindi adesso è in mano nostra, tutto dipende da noi spero che i ragazzi abbiano capito la parola fiducia, cosa voglia dire stasera servizio hanno giocato con tutto da perdere eppure hanno tirato fuori il carattere spero che riusciamo a tirarlo fuori casa che fino ad ora non abbiamo mai fatto. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per l'ascolto e arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.